Grazie a tutti. 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 Co-working quindi inteso non come modello in assoluto da abbracciare ma più come un approccio, come un modo di fare le cose insieme ad altri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Invece mi ha risposto Letizia, in italiano, è già andata bene e non ci ha risposto in pugliese in tarantino. Inizialmente, siccome l'idea era quella di avere formatori europei, quindi siamo rimasti un attimo così, un po' di disappunto. Dopodiché il secondo step è stato che avere una europea pugliese, era una cosa molto molto bella perché c'è questo ritorno nella madre terra. e comunque ci piace molto è un'ora, quindi noi abbiamo una persona di un'altra persona di un'altra persona di un'altra persona di un'altra persona di una pugliese. E quindi abbiamo qui con noi Letizia Custodero che ci presenterà un po' la sua storia personale, l'esperienza di Hublond. Dopodiché volevo anche ricordarvi, per quanto riguarda le firme, il modulo di oggi è un modulo unico, per cui non occorre firmare la seconda volta. Chi è venuto nel pomeriggio può firmare semplicemente sullo stesso modulo di stamattina, chi ha già firmato sta a posto. Va bene, allora la parola a Letizia, cercheremo di chiudere un attimo prima questo pomeriggio perché c'è un altro evento in questa stessa sala, per cui buon lavoro e grazie ancora Letizia. Grazie a voi per essere venuti innanzitutto. Comincio col presentarmi non per una questione di egocentrismo, ma per una questione di educazione. Mi sento un po' ambrangiolini con questo microfono. Comunque, dicevo il mio nome è Letizia Custodero, ho un laurea in scienze della comunicazione. Le mie esperienze di lavoro principali sono tra la Spagna e Londra, dove ho ricoperto ruoli quasi sempre come coordinator, project manager, prima lavorando per il collettivo immigrato alla Corugna in Spagna, poi ho iniziato a lavorare con il servizio volontario europeo come Mino a Madrid e poi in Inghilterra, per poi iniziare a lavorare a The Hub, un incontro che è stato casuale e al tempo stesso fortuito, dove ricopro il ruolo di finance manager, pure avendo una laurea in comunicazione, e il ruolo di host, del community host. Dopodiché vi spiegherò un po' meglio in cosa consiste il mio ruolo di host. Come diceva Mino, la finalità del workshop è quella di condividere e raccontare la mia esperienza di lavoro a Londra e quali siano i benefici che io personalmente riscontro di questo nuovo modo di fare impresa, che per l'appunto è un modo collaborativo, un modo partecipato. Per fare questo, ho articolato il workshop in due sezioni, una che è un po' più pratica, come quella che avete già vissuto con Andrea, l'altra che invece è un po' più teorica, in cui vi racconterò per l'appunto quali sono queste soluzioni pratiche che il lab ha adottato, che ha disegnato con i suoi membri e per i suoi membri. Prima di iniziare vorrei ovviamente conoscervi, so che molti di voi immaginano che tutti vi siate già conosciuti nella prima fase del workshop, vero? O c'è qualcuno che non c'era? La prima fase in termini... Stamattina, no, stamattina. Ok, quindi inoltre, ho la necessità di conoscervi e la necessità di rendere questo posto un po' più hub, più casa nostra, diciamo. Quindi iniziamo con questo esercizio, adesso vi do delle cornici polaroid. Quello che vogliamo fare in modo molto artigianale è creare il nostro Member's Wall. Quindi questo è per te, questo è per te. Quindi non mi immagino di ricevere dei Monet o dei Rembrandt, ma per favore evitate i Kandinsky o i Pollock. Quindi adesso, stamattina, mi pare che siete stati divisi in coppie. Se volete potete riformare le stesse coppie e voglio che vi disegnate l'un l'altro, che scattiate la fotografia della persona che è di fronte a voi. Se pensate di conoscervi abbastanza, potete aggiungere un coefficiente di difficoltà a questo esercizio, potete ritrarvi l'un l'altro... Tu ce l'hai? Sì. Potete ritrarvi l'un l'altro senza guardarvi. E poi ci sono tre interrogativi su questa cornice, su questo frame polaroid. Voglio che mi scriviate una cosa in cui pensiate l'altra persona sia brava a... o sappiate che l'altra persona è brava a... o potete chiederla se pensate di non saperla. Una cosa per cui il vostro partner nell'esercizio potrebbe essere complimentato o vorrebbe essere complimentato e una parola che lo rappresenti. Adesso, se volete, avete 10-5 minuti di tempo per fare... Sì, dovete formare delle coppie, potete... Non volete... perché... No, le coppie di... come dicevo, se volete potete riformare le coppie di stamattina. Siccome già vi conoscete un po' meglio... Sì, sì. Sì. Quindi, praticamente, dovete scrivere una cosa su cui pensate il partner del vostro gioco vorrebbe o potrebbe essere complimentato. Gradirebbe essere complimentato. E' artigianale, è un disegno. Come volete voi, è del tutto libero. Dimmi. Sì. Sì, grazie. No, no, no. Sì, no. No, non credo, lo salto. Al limite te lo dico. Sì. Sì. Puoi dichiarire queste... Quindi sono bravo a... E la persona. Devo scrivere io. No, 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 no. Ok. Sì. Perfetto. Quindi adesso, ragazzi, se volete ci possiamo alzare tutti quanti e andare verso il nostro fantastico Members Wall. Lo possiamo costruire. Al wall. Al muro. Traduzione. Adesso, ragazzi, se volete potete rimanere in piedi o sarebbe per terra come vi sentite più comodi. e un secondo, vi chiederò ad uno ad uno di venire qui e di presentare il vostro compagno, di presentare la vostra opera d'arte e di dirci le tre caratteristiche che avete individuato. Dopodiché potrete appendere il ritratto al muro. Quindi, chi vuole venire per primo? Hai bisogno del microfono? Perfetto, grazie mille. Sì, devi presentare il tuo ritratto. Vabbè, io non so disegnare, quindi ho cercato di stilizzare al meglio che potessi. Ho capito. Chi ritratta? Quindi presento Annalisa. Ti è andata bene, Annalisa. Almeno ci ho messo, diciamo, sei donne. Almeno ci ho messo i tratti fondamentali, un paio d'occhi e una bocca. Lei mi raccontava che a lei piace molto raccontare storie con le immagini, quindi ho cercato di pensare di una ragazza che pensa a storie raccontandole con le fotografie. Quindi, se ci sarà qualcuno più bravo di me a disegnare, lo farà meglio. Ho capito. E quindi, vabbè, l'ho riportato anche come sono brava a raccontare storie con le immagini. Un complimento. Vabbè, mi ha raccontato un po' i suoi passaggi della vita. E quindi il coraggio che ha avuto nel cambiare attività, lavoro e tutte queste cose qui. E una parola che la puoi rappresentare è la frizzante. Ok, perfetto. Poi appende, grazie mille. La frizzantina. Abbiamo coniato anche una parola nuova oggi. Perfetto. Leonardo. Allora, io presento Antonio, che è molto bravo a lavorare in metalli. È un artista. Quindi, fargli un complimento e gli faccio il complimento perché vuole salvare i mestieri perduti. Quindi vuole, diciamo, in qualche modo recuperare questa produzione e trasmetterla anche ai ragazzi. Lui ha questa ambizione di voler essere il tradunione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Quindi vuole proprio... Ah, scusate. Sì, vuole appunto creare una sorta di agenzia che mette in collegamento queste due regioni. Quindi una parola che lo rappresenta Tukur è tradizione, secondo me. Perfetto. Un bel ritratto. Ti è andato bene. Se lo puoi appendere, grazie. Allora, io ho fatto il disegno di Adele. Cioè, vabbè, non ciò di perdere il risultato. Secondo me lei è brava a comunicare. Un complimento che penso le piacerebbe, è un bel sorriso. E la parola che la rappresenta è sincerità. Perfetto, grazie mille. Allora, io ho rappresentato Mino e quindi ho provato a immaginare, non ci siamo parlati, abbiamo parlato in maniera empatica con... Voi ed hai scelto la versione difficile dell'esercizio. Sì, sì, siamo andati avanti. E lui è molto bravo a creare idee. Quindi volevo fargli un complimento sincero e lo ringrazio per aver organizzato i laboratori dal basso, perché mi sembra che sia riuscito veramente bene questa cosa. E la parola che lo rappresenta è curiosità, Barretta, viaggio, perché è nel viaggio che lui scopre, insomma, esergita la curiosità. Grazie mille, L'Aria. Io vi presento Massimo. Anche noi abbiamo fatto un po' a intuito, diciamo, senza comunicare, anche se in realtà io ho pensato che sei bravo a comunicare. E mi sa che è lo stesso che sei scritto per me, quindi questa cosa è simpatica. Ti faccio un complimento per l'empatia, perché secondo me è una maniera comunque di comunicare appunto abbastanza trasparente, nella sua semplicità. E la parola che ti rappresenta è tranquillità, almeno apparente. Allora, io presento Leonardo. Il disegno è lo stile molto infantile del mio disegno, ho scelto questa cosa e me lo sono immaginato in mezzo alle montagne. Perché lui è molto bravo a raccogliere le esigenze basiche della vita, quindi la natura, l'ambiente. E gli faccio un complimento per la semplicità delle idee, perché molto spesso mi capita di pensare a delle soluzioni, però molto spesso complesse, abbastanza arzigogolate. Però lui effettivamente, con una semplice passeggiata, magari si riesce a costruire cose molto più semplici e efficaci. La parola che lo rappresenta, viaggiamo passeggiando, non lo so. Io avrei dovuto raffigurare Anna Maria, però diciamo... Mi è venuto un momento di egocentrismo puro. Tutta copia, vabbè, diciamo, non so disegnare, per cui... A lei ho scritto che, diciamo, senza chiederlo, penso che sia brava a disegnare. Fammi un complimento per la tua creatività, quindi penso che sia una ragazza abbastanza creativa. E la parola che potrebbe rappresentarla è felicità e o barra libertà. Perfetto, grazie. Ricambio. Questo è il suo ritratto. Sono bravo a saper tutto sulla funzionalità degli alimenti. Io pensavo che fosse tipo mangiare, riempire la pancia, e cose saporite. Invece è un'altra cosa. È molto bravo e tecnico in questo. Poi chiedete a lui per maggiori approfondimenti. Fammi un complimento per... Gliel'ho chiesto questo, lui ha detto per il disegno. La parola che mi rappresenta è Filippo. Passo là? Non passo. Beh, ho disegnato Angela. Abbiamo parlato stamattina, è una ragazza che ha un sacco di progetti. E quindi ho scritto che sono bravo a sognare. Nel senso che prima l'immagina, e poi praticamente le mette in pratica. E nonostante questo, diciamo, le esprime con una certa grazia. Cioè senza, diciamo, un senso di rabbia, di rivalza. E quindi la parola che più mi rappresenta è la tranquillità. Perfetto, grazie mille. Allora io vi presento Eugenia, che forse per il mio disegno si è nascosta. Allora, lei è brava ad ascoltare. Vorrebbe ricevere un complimento per l'impegno in quello che fa. E la parola che più la rappresenta è energia. Grazie mille. Ok, io vi presento a Michele. È uscito un po' Clark Kent. Lui è molto bravo a fare trekking. Quindi si può raggiungere in questo gruppo di camminanti. Il suo complimento è un tipo onesto. Lui è onesto. Una parola che le rappresenta è sociabile. Parla con tutti, le piace, comunicare. Così. Io invece ho disegnato Carles. Con qualche cappello in più. Lui mi dice che è bravo a cucinare. Una delle sue specialità è la tortillas. Tortillas di patate. Comunque, io, diciamo, ci credo. Però no, ci credo. Poi è una brava persona. La parola che lo rappresenta è l'adattabilità. È adattabile. Perché ha viaggiato molto. E quindi ha questo spirito di iniziativa, diciamo. Perfetto, grazie. Grazie. Allora, vi presento Giancalla. Mi dispiace per il disegno. Allora, è brava, fa sorridere le persone. Potrebbe piacere un complimento per le idee creative e originali che potrebbe avere. La parola che sicuramente la rappresenta è sorriso. Benissimo, grazie. Allora, io presento Nico. Bravo a creare reti e moltiplicare idee. È un vulcano. Poi, la parola che lo rappresenta, secondo me, è apertura. Il complimento ho dovuto chiedere a lui e ha deciso che vuole essere un bravo ragazzo. Ah, ok. Allora, io ho disegnato Donato, con tanto di elmetto, radice quadrata e tutti gli accessori di un ingegnere Dila. Però ho disegnato una casa sbarrata e una capanna degli indiani, perché lui ha l'idea del progetto di autocostruzione delle case. Allora, ho scritto, non ci siamo detti niente, quindi ho messo come. Sono bravo a costruire, sicuramente, sia in senso materiale che sicuramente metaforico anche. Come complimento la capacità di sintesi, perché parlando mi sono resa conto che sintetizza bene i concetti senza perdere valore. E la parola che lo rappresenta, ho messo come parola, meraviglioso, come esclamazione, quando qualcuno è soddisfatto di qualcosa che crea e quindi esclama proprio la sensazione di appagamento per quello che fa. Grazie. Perfetto, grazie. Allora, io ho cercato di disegnare Onofrio e sono bravo a cercare, secondo me è una persona che ama ricercare, insomma, le cose. Fammi un complimento per la bontà, penso che sia una persona estremamente buona e emana un po' questa energia di bontà. La parola che lo rappresenta è la pace, un senso di pace, di tranquillità. Pace, pace. Grazie. Allora, io avrei dovuto, cioè avrei voluto rappresentare Teresa, Teresa e lei, i capelli sono venuti bene, c'è la parte più, più questa idea. E l'allegria è la cosa che più la, insomma, la rende più solare. Lei è brava a comunicare, è molto comunicativa. E poi, fammi un complimento e il sorriso, ha un sorriso proprio a 86 denti, quindi è stupendo. E la parola che mi rappresenta è sobrietà. Credo che la sobrietà sia la sua immagine. Grazie. Manca? Vabbè, ci sono io, presento Ilaria. Ilaria è bravissima a fare le focacce e questo è stato già verificato stamattina, quindi non ci sono dubbi. Poi, per quanto riguarda un complimento, io, in questi pochi giorni, la sensazione che ho avuto è che ha un'armonia, diciamo, interiore. E la comunica, cioè emerge. Quindi è brava a dare questo senso di armonia, di serenità. Almeno questa è la mia percezione e lei un po' conferma. E per quanto riguarda la parola che la rappresenta è la solarità e la naturalezza. Benissimo. Io ho disegnato il volto di Lucia, visto che comunicare come bravura è stato inflazionato, sono passato a concretizzare. Secondo me Lucia è una persona brava a concretizzare. Fanno un complimento per determinazione. La parola che mi rappresenta è energia. Benissimo, grazie. Ti appendo al muro. Appendimi, grazie. Allora, mi toccava Raffaele. Allora, secondo me lui è un sognatore, quindi è bravo veramente a sognare. Un complimento è la sua positività, perché penso che sia una persona molto positiva, che non guarda gli aspetti negativi in generale. La parola che lo rappresenta, può essere fraintesa, però lui non la fraintende, credo, è teoria dell'ebetismo. Penso che ci siamo presentati tutti, vero? Sì. Perfetto. Vi ringrazio molto, abbiamo questo fantastico member school, adesso come potete vedere, sono particolarmente soddisfatta. Comunque adesso, la seconda parte di questo pomeriggio. Prima sentivo dei commenti e ho assistito a alcune delle presentazioni dei progetti. molti di voi dicevano che vorrebbero, per l'appunto, continuare a lavorare su questi progetti che avete presentato ad Andrea. Quindi io vi chiedo adesso di ricreare i gruppi che avevate creato questa mattina, perché siamo tutti presenti, vero? Sì. Ok, perfetto. Sì. 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 Sì, quindi vediamo come veramente possiamo metterli in pratica da questi progetti. Quindi pensiamo, non so se in tutti i progetti avevano già un nome, nel caso non l'avessero, selezionate un nome, assegnategli un nome. Pensate a un motto, a una frase per il vostro progetto, come per esempio per la King's Cross o per l'Hub in generale, è Where Change Goes to Work, dove il cambiamento va al lavoro, essendo per l'appunto una rete di innovatori sociali. Quindi una frase, uno slogan che renda chiaro il contenuto del progetto. Pensate soprattutto adesso, dopo una fase di progettazione delle idee, pensate adesso a come rendere questi progetti finanziariamente sostenibili. Ossia, se abbiamo un'idea e non facciamo affidamento su un finanziamento pubblico, come rendiamo questo progetto quindi remunerativo? Quindi per esempio possiamo pensare ai servizi che possiamo offrire o possiamo pensare a lanciare un prodotto, come per esempio nel caso del Lab, possiamo pensare se creiamo un'associazione a una vendita di membership, voi lo dovete individuare. Dopodiché voglio che pensiate, disegnate di nuovo, visto che siete molto creativi e molto... C'è un'autocopia, no, c'è un'autocopia così... Di tutte le cose che dovete fare? No, è una partita. Scusami, umorismo inglese. E quindi nell'ultima fase, per l'appunto, disegnate un logo, un brand che identifichi per l'appunto il vostro progetto. Per fare questo quindi avete adesso mezz'ora di tempo. Vi do un quadro di riferimento concettuale, operativo più che altro, per ripensare quindi i vostri progetti in termini più pratici. Innanzitutto abbiamo visto che i vostri progetti hanno una visione, ossia volete creare un impatto sociale positivo. Molto spesso ho sentito che la tematica ricorrente era, per esempio, la sostenibilità medioambientale. Quindi tenete in presente qual è la vostra visione. Tenete soprattutto presente le competenze che avete all'interno del gruppo. Tenete presente oltretutto quali sono gli incentivi, che cosa ne guadagnate attraverso... nella realizzazione di questo progetto, quali sono le risorse che avete nel territorio o all'interno della comunità, o le risorse che avete, il capitale umano, che avete all'interno del vostro team. E quindi qual è il piano di azione, che è il business model, quindi come lo mettete in pratica. Se ci sono tutti questi elementi, allora il vostro piano di azione è funzionale. In questo modo potete realizzare un'azione, una creazione, un cambiamento che avrà un impatto forte e positivo sul territorio su cui avete deciso di operare. Va bene? Se volete posso riscrivere... Abbiamo delle copie di questo. Quindi adesso lo riscrivo qui, vi li potete mettere per terra. Allora ragazzi, qual è il primo gruppo? Chi vuole presentare per primo? Chi se la sente? Volete venire voi? Ragazzi, per favore, se vi volete sedere, così possiamo prestare attenzione al primo gruppo. Ragazzi, sedetevi, grazie. Che venga il primo gruppo a presentare, quindi, il progetto? Possiamo chiudere la porta, per favore. Sì. Sì. Il nostro è sempre un progetto complesso. Sì. Stavamo cercando un po' di mettere, di chiarire le idee che avevamo avuto prima. Credo che il microfono non stia funzionando. No, si sente. Bisogna alzare il volume del microfono, forse. Allora, partiamo dal logo e dal nome del prodotto. Sì. Cioè del progetto. Allora, il progetto si chiama Fertilab. Vabbè, non so se riuscite a vedere il design del luogo. Vi lascio immaginare, non ve lo spiego. Il motto è, no, non è una ciliegie. Fertilab si chiama il progetto. Allora, per cui ne abbiamo capito. L'avete capito. Quindi, l'unione fa la vita, è il nostro motto. C'è solo un papà che può fare sticcola. Da casa o da casa. Allora, quindi, partendo dal... Cioè, io partirei più dalle competenze che abbiamo rilevato all'interno del gruppo. Prima di passare al business model, perché non siamo riusciti a completarlo al 100%. Quindi abbiamo un architetto esperto di autocostruzione, un consulente economico-finanziario e uno legale. Una consulente in temi ambientali, due in temi di marketing e comunicazione e una progettatrice culturale. Siamo, diciamo, tra di noi comunque interessati a tutti i temi che riguardano l'ecosostenibilità, quindi lo sviluppo sostenibile, slow food. Abbiamo anche interessi nei settori enogastronomici. E in pratica il nostro progetto, cosa vuole... Cioè, con questo progetto cosa vogliamo fare? Vogliamo in pratica cercare di creare una sorta di villaggio rurale all'interno del quale svolgere le nostre attività. Con, diciamo, noi presupponiamo di avere già un lavoro, quindi stiamo cercando di ricreare questo piccolo borgo rurale in cui andare a creare una best practice da cui poi partire per creare tipo un embrione che lo vada a sviluppare in altri posti dove andranno a creare delle cose simili a quelle che andremo a creare noi. Quindi come facciamo per fare questo? Cercheremo innanzitutto, dobbiamo cercare una vecchia masseria, una vecchia cascina, visto che, diciamo, dalle nostre parti ce ne sono quantità industriali di queste cascine, un po' di masserie, chiamiamole come le chiamiamo noi, masserie abbandonate che noi dobbiamo trovare il modo di prendere incomodato, d'uso, vedremo se è a titolo gratuito oppure troveremo dei partner che vorranno collaborare con noi in cui andare a sviluppare un po' di attività che potrebbero essere quelle... Va bene, innanzitutto partire sempre dai discorsi con cui abbiamo preso confidenza che sono il co-working e il co-living perché un altro nostro obiettivo è viverci comunque, creare comunità all'interno di questo borgo. Quindi poi successivamente creare dei laboratori sull'autocostruzione, dei laboratori sui temi della sostenibilità, dei laboratori simili a quelli che chiamano fattorie didattiche che ci sono già in atto dalle nostre parti. In pratica in questo borgo vorremmo anche curare la nostra vigna, il nostro orto da cui, diciamo, produrre anche vini, vino e prodotti da agricoltura da cui potremmo anche ricavare un valore economico andando poi a rivendere queste cose qua in cui potremmo anche magari offrire dei servizi a dei turisti che vogliano ritornare in contatto con i vecchi lavori, vogliono tornare in contatto con la natura quindi potremmo offrire anche una sorta di alloggio gratuito in cambio del loro lavoro manuale perché alla fine poi si portano anche magari una bottiglia di vino, un cestino di frutti, chissà. Vabbè, perché è la cosa che può attrarre di più. Però poi diciamo che in questo borgo poi dobbiamo anche cercare di creare una rete con il territorio vicino alle città in cui ci andiamo a insediare. Poi non abbiamo neanche pensato dove andarci a localizzare. Quindi organizzare una serie di eventi che poi vedremo quali saranno. Quindi anche gruppi di acquisto solidale per così invogliare magari anche delle scolaresche che possono partecipare oppure creare vita sociale e comunque scambi intergenerazionali tra i giovani e gli anziani. Quindi cos'è? Il valore aggiunto che possiamo andare a dare al pubblico sono la condivisione di appunto questi beni perché noi durante poi magari anche i laboratori dell'autocostruzione pensiamo di mettere su edificare cioè dove è possibile edificare degli altri piccoli locali e abitazioni dove poi magari riuscire a richiamare anche altre competenze che per ora sono fuori dai nostri progetti. Quindi chiunque poi voglia partecipare può venire. Quindi poi naturalmente potremmo anche collaborare con gli altri progetti per organizzare le varie attività. Quindi il valore aggiunto di condivisione il benessere della vita della gente perché vorremmo vivere bene e la collaborazione fra tutti quanti. Capito, perfetto. Adesso voglio fare una domanda al gruppo. Voglio innanzitutto passare al contrario dalla parte, diciamo, l'aspetto negativo di questo progetto. Quali sono invece le competenze che pensate vi manchino per mettere in pratica questo progetto? Competenze all'interno del gruppo quindi può essere interpretato come risorsi umani o competenze personali o anche, vi chiedo un'altra cosa, qual è la frustrazione maggiore che avete vissuto all'interno del gruppo? Noi non sapevamo, all'inizio c'era chi proponeva di partire buttando fuori il soldo sul bancone e si parte. Però poi abbiamo detto non era questo l'obiettivo di questi workshop perché alla fine era creare imprese innovative magari anche chi non ha possibilità economiche di farlo abbiamo imparato a capire durante questi workshop che comunque le opportunità sono tante. e quindi alla fine poi abbiamo pensato di non tirare fuori, cioè non vogliamo mettere dei soldi di partenza nostra quindi uno dei muri che ci possono essere è come trovare dei partner che vogliano invogliarci ad andare avanti in quest'idea. Quindi l'accesso ai finanziamenti. Sì, in effetti in questo progetto la cosa poco chiara è dove finisce il privato e dove comincia il co-working, co-living eccetera eccetera mi spiego meglio normalmente chi fa un condominio c'è 10 famiglie che mettono un po' di soldi e si fanno la casa non so se mi spiego qui noi abbiamo pensato una cosa per andarci a vivere quindi bene o male tutte quante le famiglie verrebbero ad avere il loro spazio privato non so se mi spiego quindi io immaginavo che comunque sia una cosa del genere poteva basarsi sul fatto che chi vuole comprarsi casa magari invece di comprarsi casa in città lo fa in campagna con questo modello quindi immaginavo che non un credito un fondo iniziale ci doveva essere e non come dire non si partisse su un modello totalmente da zero non so se mi spiego quindi effettivamente andrebbe prima chiarito e come dire scandito per bene dove finisce lo spazio privato e dove comincia lo spazio comune ma non inteso come comune in senso come comunità di valore aggiunto perché se io sto come dire a fare il mio lavoro di prototipista in campagna ho il laboratorio in comune con chi fa le botti per il vino e ho uno scambio anche costruttivo su come lavorare il legno che mi può aiutare nel mio lavoro non so se mi spiego quindi questa cosa qua l'abbiamo immaginata che qualunque nucleo sociale volesse andare in campagna con le proprie competenze poteva fare il suo lavoro anziché in città in campagna però aiutarsi l'un l'altro e ricevere del valore aggiunto proprio dalle competenze dal co-working che poteva venire fuori come se fossero uno a fianco all'altro come scrivania come succede in The Hub insomma quindi un hub sociale diciamo così dove però c'è comunque un investimento privato immaginavo io però ecco correggetemi quindi il problema è come creare un network al di fuori della vostra impresa quindi come connettervi poi con il territorio quello è uno dei problemi a quello che ho capito e un altro dei problemi è anche come disegnare per l'appunto un business model che funzioni che non sia un business model che abbia come core come aspetto fondamentale per l'appunto il finanziamento pubblico ma che per l'appunto possa contare su delle forme di entrata e un altro problema mi sembra di identificare anche quello un po' della struttura dell'entità legale della vostra organizzazione della vostra associazione del vostro progetto in generale pensavamo di sfruttare il co-working e appunto puoi vedere se diciamo creare un'associazione un'associazione pensavate no non ci abbiamo pensato questo è un altro degli aspetti quando si scrive un business model che va tenuto in considerazione adesso volevo chiedere un po' da voi presenti cosa pensate del progetto che è stato presentato se pensate che sia un'idea applicabile realizzabile che sia un prototipo vincente che abbia delle mancanze cioè poi volevo ricordare che comunque il nostro obiettivo è creare un modello che poi potrebbe essere esportato quindi trovare anche poi con il nostro lavoro magari di comunicazione all'esterno riuscire a trovare altri gruppi di professionisti che volessero poi riapplicare quello che noi saremmo riusciti a creare diciamo così io faccio fatica proprio a dire la mia su questo progetto perché ci sono tante variabili di cui ovviamente voi non avete ancora parlato quindi dipende su che tipo di terreno proprio si va ad insediare come è collegata alle città nei dintorni che tipo di servizi ci possono essere possono mancare quindi come dire è un progetto mi riaggancio a quello che diceva Lucia non è impossibile ma è comunque a un livello di elaborazione di complessità decisamente superiore ad altri progetti di cui stavamo discutendo in questi giorni quindi probabilmente richiede molto più tempo come incubazione quindi buon lavoro e buon coraggio come dicono quindi lo realizziamo questo progetto a step a step perfetto anche quindi è difficile filtrare quelle che sono le idee le passioni e concretizzarle chi vuole parlare chi è il secondo grazie ragazzi noi siamo l'associazione Semi l'acronimo sta per sostenibilità ecologia movimento e interazione siamo un'associazione di volontariato e il nostro progetto si chiama l'abbiamo reinterpretato Eco Flaners non so quanti conoscono i Flaners un movimento un movimento che intorno all'ottocento motivava i ragazzi diciamo di una certa cultura in Europa a viaggiare in giro per l'Europa per conoscere fare esperienza e apprendere quindi più di un'università era viaggiare in giro per il mondo e loro documentavano sotto forma di diari che poi sono diventati dei veri e propri libri documenti storici che ci servono per conoscere quindi ci sembrava che potesse in qualche modo riferirsi riassumere la nostra immagine di viaggio di conoscenza e di diffusione di saperi però Eco in una visione Eco perché noi ci teniamo appunto a questa cosa della sostenibilità perché questa è la nostra mission il motto sarebbe impatto zero massimo impatto perché vorremmo utilizzare non soltanto i piedi il movimento lento quindi a piedi in bicicletta ma anche un mezzo che è un rimorchio che si che cammina grazie all'idrogeno è un progetto che girerà per la Puglia nei prossimi mesi quindi si sta realizzando la Volkswagen il motore e quindi si alimenta grazie all'energia del fotovoltaico racchiude in celle raccoglie l'energia elettrica che poi verrà utilizzata per muovere il mezzo in più si produce anche acqua distillata si può fare il caffè insomma sì vabbè qualunque cosa poi l'acqua distillata va bene e quindi la nostra visione è noi viaggiamo alla ricerca di pratiche sostenibili e salutari per seminarle e diffonderle quindi semi per questo il nostro logo è bellissimo prego la nostra creativa un applauso perché si capisce un semino che cammina skills abbiamo molte abilità e competenze sì perché ai media abbiamo Adele ai media ma non soltanto le vuole viaggiare ricercare quindi farà parte del gruppo in movimento a piedi quindi realizzazione degli eventi ci sono io con il viaggio a piedi finance manager abbiamo cars carless carless con noi insieme alla logistica anche lui aiuterà invece per donato super competenze ricerca preliminare ricerca preliminare per individuare le pratiche sostenibili tecnico autocostruzione logistica coltivatore diretto abbiamo massimo grande anche la logistica ricerca e preparazione culinaria abbiamo il nostro ottimo cuoco salutista Filippo quindi per quanto riguarda le risorse noi facciamo affidamento molto agli sponsor perché pensiamo che il nostro progetto sia così bello che sicuramente molti vorranno sostenerlo e quindi a parte le aziende che si occupano di abbigliamento sportivo piuttosto che biciclette naturalmente chiedere finanziamenti agli enti pubblici attraverso i bandi regionali europei anche con il crowdfunding di provare ad avere finanziamenti tramite il crowdfunding e noi ecco un premio che abbiamo immaginato da restituire ai nostri sostenitori sarebbe quello di vendere quote di soggiorni futuri da spendere nelle strutture e non è un premio le strutture non è un premio sbagliato la struttura finale però in previsione della struttura finale perché come vi ricordiamo noi ci muoviamo però poi quando torniamo a casa costruiamo una bella casa che è una struttura stabile in cui raccogliamo come una banca dei semi tutte le conoscenze che abbiamo acquisito e che poi diffonderemo semineremo in giro per il mondo insomma così che altro? non ce l'avevamo vabbè quindi adesso volevo sapere qual è l'aspetto all'elemento che avete trovato più difficile nel momento in cui stavate elaborando il vostro progetto il titolo il motto il tempo avevamo poco tempo l'ho capito perfetto quindi un'altra domanda invece qual è la competenza o la risorsa che idealmente se aveste la bacchetta magica vorreste avere per realizzare il vostro progetto per trasformarlo in realtà sì finanziamento che sia essere ascoltati da finanziatori quindi avere una cassa di risonanza per il vostro progetto è un progetto che interessa l'ecosostenibilità quindi un po' è nell'interesse di tutti quindi focalizzare un po' l'attenzione anche quindi la sfida potrebbe essere comunicare il progetto al di fuori del sul territorio anche al di fuori del territorio dipende dall'impatto se nazionale o internazionale conosciuto anche fuori appunto da un contesto locale perfetto voi ragazzi volete commentare al mondo no sì in una prima fase itinerante dopo dovremmo diciamo mettere un po' radici da qualche parte presumibilmente insomma nel nostro territorio però ecco è un dovrebbe essere un progetto ciclico nel senso che poi non è che ci stanziamo lì e basta dovremmo continuare sempre le nostre ricerche quindi ci dovremmo un po' smistare tra chi poi si trova lì al centro di accoglienza alternativa e chi continua le ricerche per progredire sempre mantenersi un po' al passo con tutti i sistemi di ecosostenibilità perfetto benissimo adesso passiamo alla presentazione dell'ultimo progetto grazie ragazzi potete andare a posto perfetto va bene qua nessuno vuole parlare perché non sappiamo cosa dire in realtà allora non abbiamo fatto grossi passi avanti rispetto a stamattina perché siamo un po' come dire incerti tra l'idea del festival o l'idea più imprenditoriale però l'idea c'è questo è sicuro ci sono tante variabili che ancora non abbiamo deciso per quanto riguarda il titolo ne avevamo già uno non pensiamo di cambiarlo lo teniamo che sì sì i suggerimenti sono molto volevo per l'appunto chiedere no volevo chiedere può essere adesso può essere al termine comunque pensateci alla domanda se voi volete anche presentare quelle che sono le opzioni i due prototipi che avete per il vostro progetto e poi chiediamo ai ragazzi di esprimere la loro opinione diciamo questa è un'idea che viene da ieri quando abbiamo lavorato sul crowdfunding l'idea era di fare un festival della mobilità sostenibile per promuovere la filosofia del camminare questa era la proposta un festival quindi un progetto on off sostanzialmente che può anche facilmente diventare un progetto imprenditoriale con dei pacchetti turistici da vendere agli appassionati di trekking o di questo tipo di mobilità anche in tutta Italia e perché no all'estero quindi diciamo su questa incertezza ci siamo un po' soffermati a riflettere l'altra opzione era quella appunto di fare una cosa più tipo imprenditoriale con dei veri pacchetti insomma un progetto di packaging che può prevedere prodotti locali abbinati ai libri oppure a dei DVD che raccolgono le chiacchierate con questi esperti perché sostanzialmente l'idea è di fare diciamo in questo prototipo di progetto tre passeggiate in ambito rurale urbano prevalentemente diciamo privilegiando i piccoli comuni e accompagnare queste passeggiate una sorta di laboratorio dal basso però anziché in un luogo stanziale un po' itinerante con degli esperti che ci raccontano su diversi temi ci passano un po' le loro competenze e con le opportune interruzioni per poter come dire apprezzare il paesaggio i diversi elementi che lungo il cammino potremmo incontrare quindi dalla natura alla produzione agropastorale eccetera l'architettura e quindi comunque mi interessa molto questo suggerimento nel nostro brainstorming sul titolo c'è venuto in mente una cosa per voi walk and talk come rock and roll una cosa così walk and talk ci piace prendiamo nota walk and talk è la nuova proposta la vecchia era due passi quattro chiacchiere e cento idee poi per quanto riguarda gli slogan abbiamo il cammino dell'idea o può essere anche il payoff walk and talk il cammino delle idee le idee hanno le gambe lunghe camminare per pensare cammina liberamente idee su due piedi idee in cammino insomma abbiamo fatto un po' un brainstorming è da decidere per quanto riguarda la parte economica le risorse vabbè non parliamo soprattutto se è un festival con tre passeggiate ci sono i relatori sicuramente da pagare per questo è un minimo di segreteria organizzativa per il tutto le possibilità di finanziamento sono il crowdfunding perché dall'area eravamo partiti ieri c'è la possibilità di individuare degli sponsor delle quote di partecipazione per chi appunto soffrisce di queste di questi momenti il packaging che ho detto prima quindi pensare a delle cassette con prodotti tipici e con un contenuto chiaramente culturale legato al talk in questo caso però se andiamo più su un modello di tipo imprenditoriale si possono vendere una serie di servizi come il bed and breakfast la navetta dall'aeroporto se qualcuno viene da fuori eccetera e l'altra possibilità di finanziamento sono ovviamente gli enti pubblici regione, comune ma anche i parchi tipo il parco dell'Alta Murgia potrebbe essere un soggetto a cui chiedere un finanziamento non so se coinvolgimento locale diciamo delle persone sul territorio per sfruttare i prodotti tipici organizzare che ne so dei pranzi o delle cene alla fine o a metà del percorso Sì il tutto era partito dall'esercitazione di stamattina uno dei diciamo degli elementi che un po' tutti quanti sentivamo assente o comunque da costruire in maniera più forte il senso di comunità la partecipazione e quindi questo tipo di progetto sicuramente va un po' a rispondere a questo obiettivo a creare maggiormente il coinvolgimento della gente delle comunità locali e quindi a creare maggiore partecipazione ovviamente senza perdere quello che è l'obiettivo principale cioè di promuovere la cultura del camminare a piedi del muoversi a piedi che ha fame alla fine della passeggiata esatto dopo aver passeggiato ovviamente c'è fame abbiamo fame quindi questa era l'idea non so se avete sulle competenze non abbiamo lavorato per nulla competenze interne io credo che ci può servire così a lume di naso un buon fundraiser un esperto di fundraising perché credo che non ne abbiamo nel gruppo ci può servire sicuramente un esperto di comunicazione fundraiser è un procacciatore di fondi di finanziamenti un esperto in questo cos'altro ci può servire che non abbiamo un esperto di comunicazione magari sì un esperto web e per il resto non ci servono particolari competenze se è chiaro si pensa a una cosa del genere su un mercato internazionale probabilmente servono anche persone con competenze linguistiche quindi per poter fare anche passeggiate in lingue diverse da quella italiana mentre voi a livello personale che tipo di competenza potreste sviluppare per rendere il vostro progetto più attuabile competenza di tipo personale faccio un'agenzia di cammini a piedi quindi l'idea era partita da questo cioè da coniugare diciamo a questa attività una attività di tipo promozionale rispetto all'attività di camminare a piedi come mobilità appunto sostenibile e quindi un festival in cui invitare effettivamente delle personalità che parlassero appunto di cammino di filosofia del camminare anche di cammino inteso come possibilità per star meglio a livello psicofisico e quindi sviluppare una certa idea che portava come valore aggiunto il fatto che la gente lasciasse a casa la macchina e imparasse a camminare a piedi quindi con una serie di implicazioni di carattere ambientale e quindi questo tipo di competenza lo mettevo a disposizione per questo progetto ho capito perfetto benissimo grazie volete aggiungere qualcosa invece voi su quelle siccome avete incontrato delle difficoltà nel momento di elaborare il progetto ad esempio avevate una visione comune avevate una passione forte sapevate realmente cosa volevate fare o ad esempio un'altra problematica potrebbe essere non solamente quella a livello strategico di elaborazione del business model potrebbe essere anche una lacuna a livello di comunicazione del progetto al di fuori o capacità a livello di marketing cosa vorreste idealmente avere la visione comune come dire sui principi sugli obiettivi generali ce l'abbiamo ovviamente si può declinare questo progetto come abbiamo detto in tante maniere diverse pensando anche per esempio abbiamo discusso un po' del target non abbiamo ben chiaro il target quale può essere però ovviamente sono tutti altrettanto validi sia quello delle scolaresche quindi per lavorare maggiormente sull'apprendimento tra generazioni anche il target internazionale cioè c'è bisogno di un'elaborazione ulteriore che ci porti a decidere poi anche le modalità ma io credo che gli obiettivi più o meno sono chiari ecco perché da un progetto possiamo farne dieci insomma a seconda di come si vanno a combinare le diverse variabili perfetto benissimo grazie ragazzi non so se volete aggiungere qualcosa sentiamo è quello che è un po' più realistico come progetto alla fine forse è quello più realizzabile perché secondo te beh perché può essere facilmente diciamo almeno all'inizio realizzabile in un contesto locale volto anche proprio la valorizzazione di certe realtà locali però ecco insomma mai dire mai cioè si può cominciare con meno fondi anche appunto senza puntare così in alto però perfetto grazie vorrei aggiungere qualcosa nel senso che sembra quello sembra essere quello più low cost e più fattibile dal punto di vista della sostenibilità economica e poi come corollario si potrebbero organizzare anche altre attività interagendo con altre associazioni presenti sulla città dove si andrà poi non so se avete pensato dove andare a fare e quindi sì vabbè era quello cioè comunque si può collaborare con tante cose solo una cosa soltanto per quanto riguarda l'idea del packaging giusto per capire avete pensato magari tipo anche valutare un qualcosa come accordi con le associazioni di categoria cioè riuscire magari a realizzare dei packaging a costi inferiori magari rispetto a un'ipotesi di acquisto proprio perché in qualche maniera c'è la promozione di immagine dei prodotti proprio attraverso proprio rivolgersi alle associazioni di categoria in qualche maniera pubblicità in cambio di materia prima in qualche maniera sì era una buona idea ovviamente noi pensavamo credo almeno io non abbiamo parlato tanto più ai piccoli produttori che in molti casi non come dire non sono rappresentati delle associazioni di categoria esatto quindi sì però tutto ciò che può favorire anche un impatto locale quindi l'associazione di categoria è un livello senza trascurare un livello come dire del produttore che magari commercializza in una maniera un po' come dire periferica rispetto ai canali di produzione e di distribuzione quindi sì in questi termini proprio come incontro con la comunità locale insomma sì quella era l'idea di fare una sorta di progetto pilota con questo festival più o meno stiamo andando in questa direzione quindi tre giornate o tre weekend poi vediamo se ci sono le condizioni per la riproducibilità e per farlo diventare impresa è una specie di progetto pilota appunto sì perfetto grazie ragazzi adesso volevo un attimino spiegare il perché abbiamo fatto questa certizzazione quindi con Andrea già questa mattina avete capito cosa significa collaborare lavorare insieme e condividere risorse e saperi adesso abbiamo invece tradotto siamo passati al gradino successivo quello della messa in pratica delle idee che diciamo è la parte un po' più complicata e anche un po' più frustrante quello che abbiamo vissuto adesso è in realtà un esperimento un format che utilizziamo al lab che viene chiamato in questo caso London Hub Club London Hub Club ogni hub da un nome diverso alcuni dei tre hub a Londra per l'appunto lo chiamano London Hub Club che è un evento itinerante ogni membro ha dieci minuti a disposizione in cui presenta il proprio progetto o una sfida a cui una sfida che sta vivendo anche semplicemente una passione un'idea che ha che vuole realizzare ma molto spesso si tratta dei progetti delle start-up veri e propri di questi imprenditori di fronte ad un pubblico che è composto da tutti i membri dei tre hub e anche molto spesso da un network esterno di interessati che vengono a partecipare perché sono interessati per appunto a scoprire nuove idee e a incontrare quindi a fare networking con altri imprenditori quello che abbiamo vissuto è molto significativo innanzitutto perché per la persona che presenta il progetto è molto importante ricevere il feedback della comunità in questo caso la comunità siete voi e avete dato quello che viene chiamato un peer-to-peer mentoring ossia un supporto a livello paritario come imprenditori e come persone per l'appunto come individui che sperimentate gli stessi tipi di frustrazioni avete condiviso poi quelle che sono le soluzioni che nella vostra vita quotidiana o a seconda di quelle che sono le vostre expertise ossia le vostre competenze o anche esperienze previe avete condiviso spontaneamente e trovato spontaneamente delle soluzioni anche ai problemi oltretutto come vediamo c'è stato anche un lavoro di condivisione delle risorse e di competenze l'esercizio del members wall aveva anche quella finalità di mappare un po' quelle che sono le passioni e i valori comuni delle persone che costituiscono l'hub ma anche quelle che sono le competenze i progetti di modo da facilitare quelle che poi sono le connessioni e la collaborazione a livello creativo tra i diversi imprenditori quindi come vediamo questo è un aspetto molto importante che facilita quindi le realizzazioni ma c'è anche un aspetto più diciamo più emotivo ed è un aspetto più ricollegabile a quello che invece è l'elemento del supporto tutti voi avete vissuto delle frustrazioni e le avete anche avete condiviso quelle che poi sono le difficoltà che avete riscontrato nel momento in cui per appunto queste idee dovevano tradursi in realtà cosa avete fatto? Le avete rese pubbliche e in questo modo vi siete motivati a vicenda nel senso che come individuo avete sperimentato le problematiche che vivete nel quotidiano sono le problematiche che vive anche il resto della comunità quindi vi ha anche motivato all'azione al tempo stesso i progetti che sono stati presentati vi hanno anche ispirato quindi vi hanno dato anche degli spunti oltre che delle motivazioni a continuare vi hanno anche illustrato quelli che possono essere dei valori che voi potete condividere potete abbracciare se non se non li abbracciate già e quindi tutti questi elementi che confluiscono solo nel format di un evento ci hanno fatto già sperimentare in prima persona poi quella che in generale è la filosofia hub a questo proposito volevo un po' illustrarvi poi nella pratica quelle che sono le soluzioni che noi abbiamo creato e codisegnato per la comunità per queste sfide per l'appunto che anche voi queste difficoltà che anche voi avete vissuto nella semplice pratica oggi del del prototyping ossia di inventare un modello questo è un format quindi anche molto importante perché vi permette praticamente di testare la validità del modello che state presentando e la state testando grazie ad una comunità di pari che per l'appunto vi dà un feedback un riscontro immediato sulla fattività sulla realizzabilità della vostra idea quindi abbiamo visto che in un format del tutto in un evento del tutto rilassato informale i nostri membri si sedono per l'appunto sui tavoli si sedono per terra si sedono su dei puff non potete potete per l'appunto acquisire diverse competenze non ultima quella ad esempio la capacità di esprimere di comunicare il progetto che viene chiamato in inglese quindi pitching immaginate che doveste presentare invece il vostro progetto ad una comunità di investitori nel momento in cui lo presentate al lab sviluppate anche quell'esperienza e quella competenza quella self confidence quella fiducia che vi permette di comunicare efficacemente e con energia la vostra idea quindi questo lo fate in un ambiente che è fidato un ambiente di pari in un ambiente che oltretutto possedete che vi è familiare perché è l'ambiente in cui lavorate anche quotidianamente oltre che c'è l'aspetto molto importante che del networking ossia la possibilità di creare un partnership con altre non solo con i membri della comunità hub in questo caso delle tre comunità hub londinese ma anche con i partecipanti che vengono da network che sono che gravitano intorno al lab ma che non sono hub quindi adesso se vogliamo scusate vi sto facendo fare ginnastica oggi se vogliamo un attimo avvicinarci in quell'area allora ragazzi brevemente vi spiego un po' quindi come funziona la filosofia hub come funzionano gli hub e quello che poi sono le soluzioni adottate per l'appunto riscontrate quelli che sono i problemi che anche voi avete vissuto in prima persona innanzitutto partiamo col dire che l'hub è un insieme di è una rete di spazi fisici per talenti che si connessi che si incontrano dove talenti si incontrano si connettono e si ispirano l'un l'altro quindi l'identità hub si basa su tre pilastri fondamentali che sono per l'appunto lo spazio i contenuti e la comunità gli spazi sono i spazi che inspirano come abbiamo visto perché gli spazi inspirano perché sono degli spazi comunitari sono degli spazi in cui i membri si riconoscono e si identificano perché di nuovo l'esercitazione del member's wall perché abbiamo una member's wall la storia di ogni spazio hub è la storia della sua comunità per cui attraverso quell'esercitazione attraverso quella parete abbiamo che lo spazio racconta la storia della sua comunità in questo caso voi siete la comunità di questo che per oggi è il nostro spazio hub perché parliamo di comunità e non parliamo di un semplice spazio di lavoro condiviso parliamo di comunità perché ci riconosciamo attraverso in una visione in un fine comune la visione comune è quella di immaginare un mondo dove la gente collabori per creare delle azioni che creano un impatto sociale positivo e il fine che riconosciamo per l'appunto la modalità che noi riconosciamo per l'appunto quella del co-working ossia dell'azione collaborativa dell'azione partecipata i valori invece fondamentali in cui ci riconosciamo credo che Andrea già ve li abbia accennati perché sono lui pure viene da un'esperienza precedente hub sono di nuovi valori della fiducia del coraggio e della collaborazione la fiducia quindi innanzitutto la fiducia in noi stessi la fiducia che un altro mondo quindi sia non solo possibile ma che stia già accadendo la fiducia nella comunità di membri di appartenenza del hub ma anche la fiducia nelle nostre idee e nella forza del nostro progetto il mezzo che identifichiamo per di nuovo per realizzare tutto questo è quello della collaborazione e in ultimo ma non ultimo vi è il coraggio il coraggio quindi di intraprendere strade che non sono state ancora percorse il coraggio delle nostre idee e il coraggio per l'appunto di proporre magari soluzioni innovative o stravaganti o comunque il coraggio anche di proporle al mondo stesso di lottare per loro e poi il terzo pilastro sono per l'appunto i contenuti i contenuti sono l'insieme delle azioni che servono a connettere ispirare e supportare i membri della comunità come dicevamo nella forma di eventi programmi di istruzione e formazione della nostra comunità e di servizi i servizi della comunità hub sono per l'appunto disegnati e copensati con e per la comunità quindi come li disegniamo questi servizi come identifichiamo quindi quelli che sono i servizi che la nostra comunità ci richiede lo facciamo in una maniera strutturata e non strutturata in una maniera non strutturata per l'appunto attraverso delle semplici conversazioni quotidiane che si possono creare per esempio intorno a un caffè nella pausa pranzo in dieci minuti che si spendono al bar una forma invece anche più strutturata che può essere per esempio quella di un vero e proprio sondaggio di un'analisi dei dati e quello che abbiamo fatto ad esempio al Lab King's Cross abbiamo chiesto abbiamo intervistato tutta la nostra comunità di 350 membri chiedendoli per l'appunto come ho fatto oggi con voi quali fossero le sfide le frustrazioni maggiori che vivevano nel momento in cui stavano cercando di sviluppare le loro idee imprenditoriali questo ci ha permesso quindi di identificare quelli che erano i servizi su cui dovevamo lavorare ma al tempo stesso ci ha permesso di identificare in forma strutturata per l'appunto che è stata dell'analisi percentuale di questi dati di quanto incidessero determinate problematiche su poi la fattibilità e la realizzazione delle imprese quindi abbiamo detto in questa forma strutturata abbiamo identificato quindi il servizio e abbiamo chiesto anche ai membri di aiutarci a realizzare i servizi che quindi erano a loro destinati quindi abbiamo detto abbiamo fatto questa è una forma sia non strutturata e sia attraverso una forma un po' più strutturata quindi possiamo dire che quindi queste azioni questi contenuti nascono in un'area in una zona limitrofa dove il caos quindi in questo caso la causalità la scoperta fortuita per questo parliamo di serendipiti l'ordine ossia la struttura l'azione il processo passare dalla fase meramente immaginativa o di confusione delle idee delle risorse e poi processarle in forma strutturata per darle un per l'appunto farle convogliare in quella che è chiamata poi la creazione quindi ma chi ci orienta abbiamo visto come sia complicato poi orientarsi quindi è difficile molto difficile anche un po' frustrante quindi creare un'impresa sono moltissime le competenze di cui abbiamo bisogno sono moltissime le idee che ci possono venire sono moltissime le passioni anche gli interessi che abbiamo o le sfide per l'appunto che ci troviamo a fronteggiare ma anche le risorse di cui abbiamo bisogno o le risorse di cui siamo carenti quindi c'è un elemento quindi abbiamo visto di caoticità la soluzione che abbiamo adottato nel lab una delle differenze delle peculiarità di uno spazio di nuovo hub rispetto a uno spazio tradizionale semplicemente di co-working è la figura del host per questo vi dicevo vi spiegherò successivamente qual è poi la mia funzione all'interno del lab quindi abbiamo l'host è un concetto essere host è un concetto anche un po' un po' antico si riconnette al concetto per l'appunto dell'anfitrione del facilitatore che nelle parole di Ivan Illich il facilitatore è colui che supporta le iniziative degli altri e molto spesso le provoca quindi colui che ci aiuta colui che aiuta all'interno dello spazio hub a filtrare ad esempio a individuare in una scala di priorità quali sono i nostri bisogni nel momento in cui stiamo progettando l'impresa e per l'appunto l'host questo processo di hosting può essere sia di nuovo del tutto casuale del tutto orizzontale nel momento in cui il supporto che io do all'imprenditore può venire semplicemente in forma di una conversazione casuale intorno ad un caffè oppure può venire in forma più strutturata quando ad esempio si identifica un problema dato ad esempio la necessità di accedere ad un network di finanziatori ad un network di investitori e per l'appunto questo può essere fatto in forma più strutturata quindi attraverso delle connessioni io come host presento presento l'idea del progetto o gli imprenditori hanno degli investitori interessati al progetto in sé o creo le condizioni perché questo avvenga creo per esempio un insieme di eventi che connette quindi l'imprenditore ad esempio a questo network di potenziali investitori o partner o sponsor questo è uno degli altri problemi di cui ad esempio si discuteva anche prima quindi quali sono quindi si costruiscono come abbiamo detto delle soluzioni si cercano delle soluzioni insieme quali sono le azioni quindi che l'Hub Kings Cross ha identificato innanzitutto partiamo da un obiettivo che è quello di l'obiettivo per appunto creare delle azioni innovative che generano un impatto sociale positivo quindi questo avviene attraverso quindi quali sono le fasi dell'impresa cioè la prima fase di ideazione una seconda fase quindi di incubazione dell'idea ossia dare una forma progettuale per l'appunto l'idea abbiamo visto come di nuovo come è complicato quindi come è importante quindi la fase di incubazione delle idee la traduzione della quindi dell'immaginazione nella creazione una fase una terza fase quindi di accelerazione nel momento in cui io ho la mia impresa il mio business model come amplifico le possibilità di successo come sviluppo la mia idea imprenditoriale in rete ed infine l'ultima una fase poi collaterale che è la fase quindi quella di accedere ai finanziamenti e quindi le modalità affinché questo sia possibile come lo creiamo lo creiamo attraverso delle connessioni creiamo queste soluzioni attraverso l'amplificazione per l'appunto dei progetti creando delle casse di risonanza per quelli che sono i progetti imprenditoriali dei nostri membri ma anche comunichiamo al mondo esterno quelli che sono anche i successi dei nostri hub members un'altra fase un'altra modalità attraverso cui facilitiamo l'impresa è quella dell'ispirazione ossia quindi una fase come abbiamo visto una parte dell'ispirazione è per l'appunto connessa al concetto anche dei valori di riferimento quindi in questo caso essendo l'hub un network di social enterprise quindi le finalità sociali di cui abbiamo parlato prima ma anche un'ispirazione che può essere interpretata anche come motivazione come ispirazione reciproca e poi tutto l'elemento della conoscenza intesa come formazione dei nostri membri per permettere per l'appunto di incubare e di accelerare le loro idee adesso vi mostro alcune delle soluzioni pratiche per l'appunto del lab quindi abbiamo visto abbiamo analizzato prima quello che è il concetto per l'appunto del London Hub Club e abbiamo visto come un semplice format un semplice evento aiuti all'imprenditore su diversi livelli che sono quello emotivo può essere il livello cognitivo il livello ispirazionale però abbiamo anche dei programmi un po' più abbiamo anche dei programmi un po' più strutturati degli eventi un po' più strutturati come per esempio vediamo lì la fellowship la fellowship è un programma contenitore che stiamo per lanciare abbiamo individuato stiamo individuando perché è ancora in fase abbastanza embrionale anche se negli altri hub nel lab Zurigo è stata una pratica già consolidata stiamo individuando per l'appunto dei partner degli investitori che vogliono investire su una idea ad alto impatto sociale come lo facciamo stiamo organizzando una challenge una sfida per la quale 25 start up giovani imprenditori comunicheranno lavoreranno su delle idee su dei progetti per l'appunto che abbiano queste finalità sociali al termine di questa challenge ci sarà un vincitore un vincitore e questo vincitore avrà per l'appunto un supporto al 100% alla sua idea imprenditoriale come si manifesta questo supporto innanzitutto quindi noi ci concentriamo in questa fase della fellowship su quella che è l'incubazione del progetto affinché per l'appunto ci si possa dedicare al progetto come avete detto necessitiamo tempo come abbiamo risolto questo problema creando in questo senso attraverso l'investimento da parte dei partner un living stipend ossia un salario mensile che verrà erogato all'imprenditore selezionato di modo che si possa dedicare al 100% allo sviluppo della sua idea imprenditoriale in secondo luogo offriamo quello che è un elemento molto importante che è quello della mentorship ossia abbiamo individuato quindi una rete abbiamo una rete di mentors di coloro che di hub senior che vogliono condividere quelle che sono le loro esperienze lavorative in questo caso parliamo di aziende che non sono già più start up ma sono up and running sono consolidate vogliono condividere quindi quelle che sono le loro esperienze di lavoro con la persona a cui stanno offrendo per l'appunto il mentoring che viene chiamato in inglese il mentoring in questo caso è la nostra start up quindi partendo dalla fase per l'appunto che è quella complicata del business model quindi condividono la loro esperienza di successo quindi riapplicano magari aiutano individuare un business model che possa essere in questo caso possa essere vincente per l'appunto quindi gli offrono delle competenze che sono che sono pratiche oltre ad una oltre ad una rete di appoggio ed un network ad un network al quale l'imprenditore e la start up si può rifare che non è necessariamente interno al lab ma può essere può essere esterno quindi oltre al mentoring c'è tutta una fase di di coaching quindi vi chiedevo prima quali sono le competenze che vorreste sviluppare a livello personale quindi come vi dicevo offriamo molti membri della nostra comunità offrono a livello gratuito e pro bono perché appunto ci riferiamo ci identifichiamo in valori comuni e operiamo affinché questi valori possono tradursi in realtà quindi offrono i loro servizi gratuitamente agli altri membri della comunità il coaching può essere di diverso tipo può essere un live coaching e quindi ci può ad esempio aiutare a identificare il coach ci può aiutare a identificare quella che è la nostra quella che è la nostra vera passione o ci può aiutare a sviluppare ad esempio tutto quello che è la fiducia in noi stessi quindi la self confidence oppure possiamo avere un business coaching che di nuovo ci aiuti a realizzare un business model che è vincente oltre a questo tipo di mentoring and coaching scheme abbiamo anche tutta una rete di clinics di nuovo queste clinics sono gratuite e sono realizzate da altri membri della comunità hub quindi dicevo è molto importante perché queste clinics possono essere possono coprire gli aspetti del fare impresa l'aspetto legale di nuovo l'aspetto del business aspetti veramente pratici come ad esempio offriamo anche servizi di consulenza a livello come può essere ad esempio come fare la dichiarazione dei redditi molto molto pratici che sono tutti quegli elementi tutte quelle sfide o tutte quelle che possono essere delle frustrazioni che ci possono tenere lontani poi da realizzare la nostra impresa o che ci possono in un certo senso poi sconfortare nel momento in cui ci troviamo per l'appunto di fronte a tutti questi tipi di difficoltà di fronte a tutte queste domande a cui pensiamo di non avere risposta quello che è molto importante è anche che la filosofia hub ci dimostra che non è importante avere le soluzioni avere già delle soluzioni precostituite che queste soluzioni si possono trovare anche grazie e soprattutto grazie a una condivisione di saperi quindi dicevo anche per esempio l'aspetto del marketing offriamo anche delle i nostri members hanno anche offrono anche delle marketing clinics o delle web clinics dove praticamente a colui che si è interessato si insegna a realizzare o un piano di marketing o anche a realizzare una website per amplificare quindi quelle che sono le possibilità di comunicazione e di successo della nostra della nostra impresa però quindi abbiamo visto diversi tipi di programmi c'è l'aspetto del networking di nuovo di cui parlavo ad esempio hub socials che hanno più l'elemento quindi della convivialità come abbiamo visto della informalità ma anche in questo questa atmosfera del tutto conviviale si possono trovare delle soluzioni quindi un network che possa aiutare a sviluppare la nostra impresa non solo a livello quindi di partnership o a livello clientelare molto spesso attraverso quella che può essere semplicemente una chiacchierata o un drink si possono ad esempio trovare persone interessate anche a comprare le nostre idee i nostri servizi ma anche come dicevo creiamo tutto quell'aspetto che invece è più connesso al networking grazie al fatto di invitare come ad esempio abbiamo fatto diverse volte network esteriore di investitori in questo caso di investitori sociali che possono venire e incontrare i nostri i nostri members scambiare idee e da volte supportarli non solo attraverso quello che può essere di nuovo un peer-to-peer mentoring o un mentoring spontaneo ma anche a volte si può tradurre in veri e propri investimenti pratici quindi le iniziative hub sono veramente tanti ma l'elemento importante è quello del supporto che è quotidiano l'elemento anche dell'espirazione che è di nuovo quotidiano che può essere alimentata poi ad esempio da hub talks su degli aspetti tematici che possono essere rilevanti per la comunità l'ultimo aspetto quello del lab che lo caratterizza rispetto magari ad esempio a casa natural è quello per l'appunto di essere quello dell'elemento globale quello di essere connesso in rete in rete come avevo già detto quindi il lab è un network internazionale quindi di spazi fisici di infrastrutture che connettono che inspirano questi change makers li chiamiamo questi innovatori sociali le connessioni vediamo ci sono diversi gli hub sono su tutti i continenti al momento ci sono 5.000 iscritti 5.000 iscritti e 35 hub già sparsi per tutto il mondo ed altri che stanno per aprirsi molto importante è che questa connessione è globale e locale e non solo non solo virtuale come adesso vi spiegherò ma è anche una vera e propria connessione fisica abbiamo pensato all'interno della hub di creare anche un vero e proprio hub passport per cui un membro della comunità hub ad esempio di Bari può venire e lavorare dal lab di Londra se si trova a Londra o può partecipare ai nostri eventi lo stesso dica sì e questo avviene costantemente vi posso assicurare non solo in realtà magari come quella di Bari ma sicuramente avviene costantemente una realtà come quella londinese per cui le occasioni di confronto anche con realtà straniere sono continue anche di accesso a delle risorse o anche delle idee innovative dei modi anche di lavorare di approcci anche metodologici diversi quindi questa possibilità è molto arricchente non solo a livello umano poi abbiamo un altro elemento quindi della rete che è molto importante abbiamo una website la website la nostra pagina web è una pagina web che è locale attraverso la pagina web scusatemi che è internazionale la pagina web ci consente attraverso un primo portale che è appunto quello internazionale poi di selezionare da un menu e di andare poi a quello che è il lab locale quindi di nuovo l'aspetto globale e locale che si connettono e si condensano in un'unica in un'unica piattaforma che è quella della pagina web ma non solo abbiamo un altro strumento fondamentale che è comune solo agli hub che per l'appunto viene il hub net l'hub net di cui Mino fa parte per l'appunto è un'integrazione una piattaforma che è un'integrazione di facebook e di twitter per cui si può ci si iscrive ci sono diversi progetti ed è uno strumento che connette i members di tutto il mondo attorno a delle tematiche dei progetti comuni si possono costruire e creare sempre progetti nuovi e si possono condividere a livello globale ed internazionale delle risorse e si può al tempo stesso comunicare a livello internazionale e globale quelli che sono i nostri progetti le nostre imprese condividere quindi anche delle best practice ma di nuovo un aspetto per cui è molto utilizzato e che ritengo sia l'aspetto importante del hub si possono condividere quindi quelle che sono delle domande ricercare in rete quindi quelle che sono soluzioni perché questo è importante perché quindi di nuovo l'aspetto globale è importante perché quindi le risposte a quelle che sono le nostre soluzioni sono molteplici sono globali sono quindi anche potenzialmente quasi infinite quindi per concludere questa presentazione anche con uno slogan che è quello del labnet e che poi è quello diciamo che racchiude tutto l'elemento del co-working e quindi del collaborare e del lavorare insieme quindi questo questo motto è 5.000 test pensano meglio di una sì grazie quindi adesso non so quanto tempo abbiamo prego voglio specificare che il fine non era vendere delle membership per quello ci penseranno magari i colleghi della di Bari sì no sarebbe anche interessante comunque avere certo non ha nulla da vendere Letizia però anche capire un po' anche da questo punto di vista in maniera sintetica senza darci il listino prezzi nei dettagli se ci puoi dire io poi ho anche un'altra domanda vorrei capire tutta questa storia quando comincia dove comincia e per colpa di chi e poi penso qualche minuto ancora possiamo prenderlo per rispondere a qualche domanda dal pubblico se c'è allora brevissimamente la storia del lab è la storia di quattro imprenditori sociali di nuovo che nel 2004 cominciano a incontrarsi in cominciano a incontrarsi in dei bar per parlare o in dei caffè con delle connessioni internet per parlare intorno ai temi appunto della sostenibilità medioambientale della sostenibilità sociale e quindi della sostenibilità economica di cui sperimentano di nuovo la frustrazione e sperimentano la necessità per l'appunto di avere uno spazio uno spazio tutto loro affinché questo possa diventare per l'appunto una pratica quotidiana pensano quindi oltretutto o considerano quelli che sono a Londra perché il primo hub è a Londra nel 2004 è del hub di Islington nel hub Kings Cross anche se uno dei fondatori del hub Islington ha poi fondato il hub di Kings Cross e quindi individuano come soluzione alle problematiche che stanno affrontando la creazione di uno spazio condiviso di uno spazio di lavoro condiviso prima di fare questo però prima di trovare materialmente questo spazio creano anche una comunità di riferimento ossia pensano al quadro di competenze pensano al tipo di comunità che loro vogliono catalizzare che loro vogliono attrarre e la invitano quindi la fase successiva trovano il posto dove questo possa diventare realtà ed il posto vi posso assicurare non è nulla di particolarmente elegante o di particolarmente sofisticato è l'ultimo piano lattico di un palazzo di un palazzo abbastanza anche antico di un palazzo con la bellezza di 72 scalini per un apporto per un dispendio calorico calcolato e stimato in 52 calorie quindi e invitano la comunità di riferimento di questi change makers ad una giornata ad un open hub creano prendono lo spazio vuoto creano una sessione e cominciano ad immaginare come vorrebbero che lo spazio fosse come immaginano lo spazio sia a livello strutturale sia a livello diciamo quasi di design sia a livello quindi di servizi prendono dei gessetti e cominciano a disegnare sul pavimento quello che poi diventerà lab quindi questo è stato questo è il modo in cui si è creato il primo hub ovviamente poi a livello economico hanno avuto hanno potuto accedere ad una rete di finanziamenti ad una rete di finanziatori che hanno ritenuto quindi valida ed innovativa questa idea che di non solo di un spazio condiviso di officini mezzo in spagnolo di quindi di ufficio condiviso ma soprattutto questo aspetto questo porre l'accento su quello che è l'aspetto invece comunitario se vogliamo scendere poi nel dettaglio di quello che è il business model del lab quindi il lab vive in forma principale di membership per cui gli associati pagano per utilizzare lo spazio pagano una quota una quota mensile e decidono di iscriversi e di utilizzare diversi tipi di tariffe possono pensare ad una tariffa che del tutto del tutto la tariffa più bassa è quella della membership virtuale per cui si ha accesso solo a quello che quelle che sono per l'appunto le piattaforme hub però non si ha l'accesso allo spazio fisico oppure possono scegliere delle tariffe che sono orarie a seconda di quella che è poi la necessità che loro hanno di utilizzare lo spazio quindi c'è il lab 20 che ti dà accesso 20 ore allo spazio lavoro oppure il lab 50 il lab 100 i numeri sono tutti riferiti alle ore di cui si può utilizzare per appunto lo spazio e di fine il lab limited che ti dà accesso illimitato per appunto allo spazio fino a poi al lab ANCOS per cui ci sono delle associazioni o delle start up che hanno appunto uno spazio fisico fisso all'interno del lab perché in realtà il concetto del lab è quello del hot desk non di avere uno spazio fisico un fisso un booth dove è assegnato una scrivania assegnata ma il concetto è per l'appunto che tutti i membri si muovano che ogni giorno si siedano ad un tavolo diverso per facilitare per l'appunto le conversazioni e le connessioni tra i diversi membri e la condivisione quindi di diversi tipi di idee e di risorse per fare questo anche a livello di design si sono creati dei tavoli speciali che sono che permettono per l'appunto questa interconnessione di essere possibili non so se avete visitato già il lab Bari se l'avete tutti visto quindi anche a livello di design c'è tutto un design che è stato studiato di nuovo per facilitare questo tipo di scambi quindi non so se in questo modo ho risposto più o meno e poi c'è anche tutto il concetto di eventi per cui si promuovono anche diversi tipi di eventi anche di vendita di servizi va bene noi purtroppo dobbiamo chiudere se c'è qualche domanda veloce con una risposta altrettanto veloce si può fare qualche curiosità approfittare della presenza di Letizia allora prendiamo tre domande di seguito il materiale sarà disponibile sì il materiale ti chiedo formalmente ufficialmente di passarci il materiale che noi metteremo sulla piattaforma di laboratori dal basso punto it come materiale di tutti gli altri workshop chiaramente poi c'era una domanda di Raffaele tecnicamente molto sinteticamente cosa vuol dire come tradurresti clinics e fellowship allora clinics sono quelle per appunto come l'italiano sono cliniche le chiamiamo cliniche perché sono per l'appunto specifiche sono mirate non le chiamiamo business clinics che comunque è una anche una forma giocosa di chiamare per l'appunto ma sono dei semplici sono delle praticamente sono delle sessioni individuali e come se tu andassi al medico mi esponessi ad esempio quello che tu hai il problema quella che è la tua malattia e ti dessi la cura ovviamente tu non non stiamo parlando quindi del medico generico ma stiamo parlando sì sì no però per esempio se parliamo di business quindi di fronte a te avrai uno specialista per l'appunto per questo è una clinica piuttosto che se vogliamo un ospedale altre domande? la fellowship il concetto di fellow fellow significa in inglese amico e quindi quindi è un'iniziativa che supporta perché gli investitori supportano una 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 startup un imprenditore però lo supportano come se stessero supportando alla fine un amico per questo si parla di fellowship io volevo chiedere giusto quali sono le figure più presenti all'interno dei vostri associati quanto costa associarsi e basta figure professionali più comuni o più ogni comunità hub ha diciamo una percentuale diversa di membri però diciamo che la comunità che cerchiamo di attrarre che selezioniamo anche perché soprattutto ci sono diciamo dei prerequisiti per poter accedere allo spazio hub ossia innanzitutto identificarsi intorno a quei valori riferimenti della sostenibilità medioambientale e sociale economica di cui abbiamo già parlato ma anche per l'appunto quindi quello oltre quindi questi tipi di criteri diciamo introduttivi che già creano una scrematura naturale di quello che è poi la nostra community diciamo che la maggior parte sono imprenditori sociali quindi che si dedicano all'innovazione sociale una grande una grande fetta di loro per esempio sono nell'area tecnica ossia dell'innovazione tecnologica per esempio al servizio poi delle tematiche sociali c'è un'area invece che si occupa abbastanza nutrita che si occupa di medioambiente un'altra fetta che si occupa di comunicazione quindi PR e marketing quindi abbiamo anche diciamo delle professionalità un po' più pratiche come abbiamo diversi programmatori quindi abbiamo in generale diciamo che abbiamo cerchiamo di all'interno di questi valori di riferimento cerchiamo di tenere la comunità abbastanza variegata di modo da poter accedere all'interno della comunità a tutti i tipi di risorse che necessiteremmo che necessitiamo quando creiamo un'impresa i costi di associarsi sono diversi dipendono moltissimo da quale hub stai scegliendo in quale città ovviamente ne parlavo con i fondatori dell'abbari leggermente l'abbari ovviamente è più economico dell'abb che esclusa anche per un livello di sostenibilità nostra finanziaria perché Londra è ovviamente più cara noi partiamo ad un minimo di 18 sterline quindi calcoliamo una ventina di euro ad un massimo poi di 410 sterline per lo spazio illimitato per la membership illimitata diciamo intorno a 450 euro però all'interno di queste tariffe facciamo una differenza tra imprese che sono start up ossia che hanno appena iniziato e che hanno un turnove minore di una certa cifra quindi l'importo per associarsi è minore mentre per aziende che sono già avviate le cifre sono diverse proprio perché vogliamo supportare quello che vogliamo fare sono supportare le start up ok va bene io a questo punto direi che possiamo concludere questa sessione ci vediamo il prossimo appuntamento ve lo ricordo è per giovedì se non l'avete già fatto vi prego di scegliere fra le due opzioni venerdì o sabato di richard l'ermer dopodiché insomma vi aggiorneremo sul dopo riscorse come già si diceva stamattina vi invitiamo ad usare anche un po' di più anche in maniera un po' più costruttiva la pagina facebook che è uno strumento insomma in cui noi stiamo pubblicando le foto però idee commenti proposte appuntamenti con vocazioni cioè è comunque uno strumento utile per per continuare a lavorare dopo la chiusura di questo laboratorio dal basso bene non mi rimane altro che ringraziare Letizia per la sua gentilissima e gradevolissima presenza nonché molto utile in questo percorso volevo solamente concludere dicendo che siete tutti invitati al Lab Kings Cross se volete venire se volete magari un giorno sperimentare cosa significhi lavorare in un hub se volete partecipare a un evento se siete a Londra quindi potete controllare attraverso la nostra pagina web quali eventi ci sono e siete benvenuti bene grazie ancora e a prossima volta grazie a tutti 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 grazie a tutti